Lezioni a Dischia sullo scenario politico il consigliere comunale uscente Antonio Piricelli. Antonio, allora in coalizione con Enzo Ferrandino candidato sindaco? Sì, noi abbiamo aperto un ragionamento come gruppo consigliare con il candidato sindaco Enzo Ferrandino quindi il proseguimento di questa amministrazione uscente. Quindi c'è ancora da lavorare o comunque i giochi sono già fatti? C'è da lavorare tantissimo perché la campagna elettorale sta per iniziare adesso ed entrare nel vivo quindi c'è da comporre le liste che sono tante le nostre, dovrebbero essere 7-8 se non erro e soprattutto avviare un programma serio, un programma che vada a dare un miglioramento a quello che è lo status attuale e soprattutto portare un rinnovamento nelle iniziative. Dobbiamo parlare di trasporti, di sanità, del sociale perché questo è un momento particolare e io credo che il mio candidato sindaco e spero il futuro sindaco di Ischia lavoreremo per questo deve essere una persona che deve soprattutto incidere nei posti dove si conta e parlo in questo momento soprattutto per l'isola di Ischia che è un'isola che vive di turismo ma che purtroppo il turismo dura 5-6 mesi e le famiglie non riescono con 5-6 mesi ad andare avanti quindi ci sono famiglie che alla fine stanno in difficoltà quindi con il fatto della disoccupazione che è stata tolta, dimezzata non riescono ad arrivare a fine anno quindi io credo che ci sia da lavorare tanto, lavorare in questo settore, chiedere al governo incidere anche col governo nazionale su queste situazioni avviare delle iniziative nuove anche per i trasporti perché i pendolari soffrono noi abbiamo tantissimi pendolari che la mattina viaggiano da Ischia per Napoli e anche nel fare un biglietto trovano tante difficoltà iniziare ad inserire dei nuovi strumenti come quando si fa il biglietto del treno chi è abbonato può avere la possibilità di fare il biglietto direttamente vicino a una macchinetta perché creare tante difficoltà agli abbonati? La sanità deve essere migliorata, abbiamo tanti bravissimi medici a Ischia, infermieri va incrementato il settore sanitario, c'è bisogno di personale, c'è bisogno di sicurezza la sicurezza è alla base della nostra isola, abbiamo bisogno di lavorare nel settore sicurezza abbiamo bisogno di dare sicurezza, somministrare sicurezza ai turisti chi viene a Ischia deve sapere che sta in un'isola sicura, in un'isola pulita quindi lavorare anche nel settore dell'ambiente che è importantissimo e dare un segnale forte a chi viene a soggiornare nella nostra isola che potrà trovare un'isola tranquilla, pulita, serena dove vi è anche una sanità che funziona